Domani per noi deve essere una partita bella, dove dobbiamo comunque conquistare il punto o i tre punti che ci consentono di vincere lo scudetto contro una squadra che in casa ha vinto le ultime due partite battendo se non sbaglio anche la Roma, quindi sarà una partita difficile, chi giocherà dovrà fare tanto soprattutto perché magari ultimamente ha giocato un po' di meno. Credo che domani in molti riposeranno, c'è un giocatore che ha bisogno di giocare e quindi domani è l'occasione giusta. Ci saranno dei giovani dietro e domani sarà una bella occasione per quelli che verranno a Ferrara per cercare di prendere un punto o tre punti per portare a casa lo scudetto, quindi chi rimarrà a casa festeggerà a casa. O Nicoluzio e Cocco lo gioco, dipende chi decide di mandare in campo, però uno dei due potrebbe giocare. Comunque i festeggiamenti possono rimandare perché martedì abbiamo la partita che chiude comunque questo ciclo importante di partite e ci dovrebbe consegnare il passaggio alla semifinale. Domani potrebbe essere, non si sa, dipende molto da noi, una giornata straordinaria dove l'Ariventus potrebbe vincere l'ottavo scudetto di seguito e quindi comunque va festeggiato perché vincere gli scudetti non è facile e vincere l'otto è molto molto difficile. Quindi va festeggiato e celebrato perché comunque è stato fatto un lavoro importante da parte della società negli ultimi dieci anni, da quando alla presidenza c'è di nuovo Andrea Agnelli. Ronaldo domani difficilmente sarà della partita perché poi è rientrato dopo, è rientrato già nei limiti di quello che ha avuto e quindi domani rischiarlo non ha senso ma come lui ci sono dei giocatori che hanno bisogno proprio di recuperare perché comunque noi veniamo dalla sosta nazionale dove hanno giocato sempre nelle proprie nazionali e quindi domani c'è la possibilità di farli recuperare e comunque in campo ci andrà una formazione tosta, giusta per poter portare a casa il risultato da Ferrara. Mario ha un modo di giocare che è molto dispendioso, poi non scordiamoci che comunque quelli che hanno giocato la finale mondiale quest'anno hanno avuto delle difficoltà più o meno tutte, chi più e chi meno, anzi i nostri due, Mazzucic e Matuidi stanno facendo una bella annata. Bazzali rientra con la squadra a fine settimana, è venuta ad Amsterdam per l'onore di firma, perché comunque è un giocatore importante all'interno dello spogliatoio comunque in certi momenti averlo con noi anche se non è a disposizione per il campo è molto importante e poi credo che abbia iniziato, intanto ormai siamo un mese alla fine, è venuto di stare a ragionare e abbiamo iniziato anche un percorso di incominciare a vedere un pochino le cose dall'altra parte. Lei gli dà una mano in questo percorso? Andrea non c'è bisogno di dare una mano perché è un ragazzo intelligente e quando si inizia, io credo che quando si inizia un nuovo mestiere, si smette da una parte e si inizia da un'altra cosa, la cosa più importante è osservare e ascoltare.